È un festival di prosa, musica e racconti che si sviluppa in 11 comuni del nostro territorio. Quest'anno 11, perché noi abbiamo iniziato con 5 comuni che poi sono diventati 8, quest'anno 11 sono Belmonte Piceno, Galdarola, Grotta Azzolina, Loro Piceno, Montappone, Monte Falcone Appennino, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Angelo in Pontano e Servigliano. Tutti questi comuni insieme hanno un unico cartellone che si sviluppa da giugno a dicembre e sarà un viaggio meraviglioso con tanti ospiti del panorama nazionale e anche naturalmente artisti del nostro territorio. Il tutto condito anche con incontri, interviste di qualità, racconteremo figure mitiche come ad esempio Diego Armando Maradona raccontato da Federico Buffa, Michael Jordan, racconteremo la figura di Michael Jordan. Ci saranno ospiti importantissimi nel panorama nazionale, ci sarà Vittorio Sgarbi che sarà ospite a Monte San Martino per raccontarci, illustrarci i meravigliosi tesori del Crivelli che racchiude, i tre Crivelli che racchiude la chiesa di Monte San Martino. Quindi un unico cartellone che si snoda attraverso prosa, musica, racconti per valorizzare e colorare i nostri borghi, i loro teatri e i loro luoghi di cultura. Bene, questo festival unisce territori, unisce più province, ma noi sindaci non vogliamo confini e quindi questo festival fa rete tra piccoli comuni, piccoli comuni che si mettono insieme per dare un'offerta culturale senza precedenti e riusciamo a essere sostenibili in questo modo. Abbiamo grandi nomi che porteranno in questo territorio la cultura, lo sport e porteranno in nostri paesi risalto, risalto culturale e nei nostri siti, i teatri, le aree pubbliche, è molto importante per noi questo festival. Noi avremo il 28 ottobre Vittorio Sgarbi che parlerà dei nostri Crivelli, questi tesori artistici che sempre di più cerchiamo di promuovere e lui sarà sicuramente la persona più adatta per raccontarci che cosa erano, chi erano Carlo e Vittorio Crivelli. Poi passeremo al 4 novembre che verrà fatto uno spettacolo, Vicolo Checov, in occasione della festa della Mela Rosa, quindi andremo a unire enogastronomia, prodotti tipici alla cultura, per finire con Cesare Catà a dicembre, che è un marchigiano che porterà uno spettacolo bellissimo su Ginevra e il corteggiamento. Sicuramente questo festival è un collegamento tra questi piccoli comuni, tra due province, ma anche tra due unioni montane, l'Unione Montana dei Montiazzuri e dei Sibillini. Finalmente facciamo rete, rete per il nostro territorio, perché è un territorio bellissimo e ci dobbiamo unire per farlo, per promuoverlo. Il prossimo dovrebbe essere una partenza molto importante perché abbiamo sia il teatro, con voi abbiamo un cartellone importante, ci avremo da fare anche per fare altri spettacoli, perché per la nostra comunità, anche se piccolina, il teatro, l'arte è stato sempre molto importante, perché sappiamo che dà un valore di aggregazione per la nostra comunità, perché come dicevo il teatro è apprezzato da tutti, chiaramente ognuno in basso alle proprie conoscenze, però penso che uno spettacolo sia in grado di dare qualcosa a tutti quanti, quindi anche nel passato è un periodo per noi molto difficile, dove non avevamo niente dove poterci aggregare, il fatto di riunirci per spettacoli teatrali è stato importante e speriamo che d'ora in poi le cose migliorino sempre. Sì, si parla sempre di fare rete tra i comuni, non sempre ci si riesce, anzi vorrei dire difficilmente ci si riesce, ma questo è un vero esempio di buona politica, di buona amministrazione. Il festival, o meglio la stagione teatrale, era partita a Belmonte nel lontano 2016, con otto spettacoli, tanto per dare l'idea in un teatro di 98 posti abbiamo fatto 95 paganti di media nelle varie stagioni, poi visto che l'idea era buona ci siamo allargati, o meglio con la collaborazione di Progetto Musical, ci siamo allargati prima a cinque comuni, sempre del Fermano, poi a otto coinvolgendo anche il Maceratese e quest'anno a 11 con un cartellone veramente molto interessante, veramente all'avanguardia e se facciamo un po' di conti, la somma degli abitanti dei vari comuni, degli 11 comuni, sono soltanto 15.000 abitanti e hanno un cartellone con 33 eventi di altissimo livello. Penso che pochissime in realtà hanno qualcosa di paragonabile a questo, quindi il Festival Story è veramente qualcosa di unico nel suo genere. Questa è una chiesa più che millenaria, è una chiesa, le prime tracce si trovano nel 916, non ovviamente 1900 ma 900, quindi parliamo di oltre 11 secoli fa. È una chiesa che è stata costruita su base romana, poi si è aggiunta una torre di avvestamento in epoca a Farfenze, è diventata di una famiglia, quindi è stata privata per tanti anni e adesso il comune, adesso negli ultimi 30 anni, è diventata comunale e quindi viene utilizzata per vari eventi, ma è veramente dal punto di vista architettonico, storico, qualcosa di veramente unico, costruita in tufo, con un criptoportico all'ingresso, con una torre di avvistamento, qualcosa che ci fa orgoglio, noi belmontesi siamo orgogliosi di questo, che è anche tra le altre cose un monumento, quindi come dire, quando possiamo utilizzarla, quando possiamo farla conoscere, siamo ben orgogliosi di questo. Sì, una curiosa storia di questo quadro, è un quadro che è stato restaurato alla fine degli anni 90, precisamente nel 1997. Il quadro si chiama Assunta fra i Santi. La tela che si doveva restaurare era di Giuseppe Toscani, ma con tantissima sorpresa, quando si è tolta la tela, si è visto che sotto c'era un quadro identico, fatto da Antonio Liozzi di Penna San Giovanni, vissuto intorno alla metà del 1700, quindi il quadro che era sotto era molto più prezioso e quindi si è pensato giustamente di restaurare la tela originale e non la seconda. E quindi in questo momento ci sono due dipinti, identici, anche di epoche molto diverse, fatti da pettori diversi, e adesso si sta pensando di restaurare anche la seconda, perché effettivamente è una grande curiosità. vagamente ricorda altri episodi che ci sono nella storia, che qualcuno ha voluto preservare un'opera d'arte di un pittore molto importante.